4,3 kg di stupefacente trovati nella sua abitazione. Luigi Di Noto, gelese di 33 anni, è stato arrestato questa notte dai carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale di Gela. Proseguono senza sosta le operazioni antidroga dei carabinieri con un'attività che parte dal basso, ovvero dai consumatori di sostanze stupefacenti, spesso purtroppo giovanissimi. Il comandante Valerio Marra. Comandante, il bilancio di un'attività che dura già da qualche settimana e ha prodotto i suoi risultati, un arresto e un sequestro importante di oltre 4 kg di stupefacente di ottima qualità? È un sequestro e un arresto importante perché noi riteniamo che oltre 4 kg di hashish e i grammi di marijuana che sono stati sequestrati all'interno di questa abitazione, di questo pregiudicato già noto alle forze dell'ordine, erano destinati, sono destinati alla piazza gelese e ai comuni limitrofi. Quindi probabilmente ci sia una rete di spaccio, noi stiamo ancora verificando, e quindi ulteriori approfondimenti noi faremo anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Sicuramente rappresenta un sequestro importante. Io dico essenzialmente questo, lo dico ai giovani, alle famiglie. State molto attenti, state molto attenti all'uso delle droghe leggere. Vi portano sulla cattiva strada. È droga anche di ottima qualità dal punto di vista del principio attivo perché noi riteniamo che all'esito dell'arco d'est, tra l'altro è un risultato assolutamente positivo, quindi con un'alta percentuale di THC, si dice in linguaggio tecnico, e soprattutto noi riteniamo che il sequestro sia altrettanto importante perché avrebbe fruttato oltre 40.000 euro di denaro contante se spacciato al minuto. Comandante, oltre 4 kg di stupefacente. Da dove arrivava, ma soprattutto come si fa a trasportare in maniera così indisturbata? Questo lo stiamo ancora verificando e accertando. Naturalmente le modalità di trasporto possono essere molteplici. Si possono nascondere nelle borse, nelle valigie, all'interno di incavi delle autovetture, oppure in camion, camioncini, insomma, diverse sono le modalità di trasporto. Questo lo stiamo ancora, ripeto, accertando, ma soprattutto quello che stupisce è che era proprio nascosta, lo stupefacente all'interno di un vano, della cassetta del contatore dell'acqua. A chi era destinato il mercato esclusivamente di Gela? Beh, Gela e dico anche probabilmente i paesi limitrofi, quindi Niscemi, Butera e anche nei comuni limitrofi, anche probabilmente anche del Vittoriasi. Questo, ripeto, lo stiamo ancora accertando e poi ci saranno, ritengo, sviluppi anche nelle prossime settimane. Tenente, voi siete davvero molto operativi. Nelle ultime settimane c'è stata proprio un'attività mirata ad individuare un certo mercato rilevante di stupefacenti. Sì, i nostri controlli, come quello di ieri sera, si inseriscono in questo controllo più ampio su Gela. Infatti, negli ultimi due mesi siamo già riusciti a trovare e quindi salvare 40 ragazzi, maggior parte di questi minorenni, proprio per uso di persone stupefacenti. La cosa importante di questi controlli, per noi carabinieri, è avvertire le famiglie, avvertire che c'è un problema nei loro figli. E questo controllo, come questo ieri sera, viene proprio fatto per aumentare questo aiuto che noi carabinieri offriamo ai cittadini gelesi e del circondario. Qual è la reazione dei genitori alla vostra chiamata? Spesso vi è sempre un effetto sorpresa, ovvero i genitori non si aspettano che il figlio possa fare una cosa del genere. Altri invece purtroppo avevano già un sentore, ma ovviamente non si auguravano una cosa del genere. Quindi la maggior parte dei genitori si trova sorpresi davanti ad un evento resimile. Altri invece hanno già dei sospetti. Le zone interessate maggiormente al traffico? Qui sulla città di Gela ci sono più punti in cui lo spaccio avviene. Sicuramente le le più sensibili sono il centro storico, soprattutto nelle ore notturne, Piazza Salandra e Piazza Roma ad esempio, e anche le zone periferiche. Anche in parte benestanti a livello di fama. Potrebbe essere questa anche in Machitella. Nel caleidoscopio delle possibilità, lo stupefacente può avere diverse tipologie di qualità? Pare che questa, dalle vostre analisi, risultasse una delle migliori. Il confezionamento come è avvenuto e di che tipo, scientificamente parlando, di stupefacente stiamo parlando? Allora, ieri sera abbiamo trovato la sostanza stupefacente divisa in più panetti. Questi contenevano ognuno suddivisi in 100 grammi la sostanza stupefacente. La sostanza in particolare ieri sera era veramente di ottimo livello. Ovviamente ottimo livello, sembra un po' paradossale, però effettivamente il THC, che è questo principio attivo all'interno della marijuana e dell'Hashish, era veramente altissimo. Questo a noi operatori già risulta evidente in un primo livello empirico proprio, perché al tatto la sostanza si distingue proprio per una maggiore colusità. Mentre per quanto riguarda il materiale scadente, come potrebbe essere quello che possiamo trovare quotidianamente, si presenta una fattispecie molto più dura e secca. Quello invece individuato ieri sera era molto, ma molto resinoso. E quindi un THC molto alto e pericoloso per chi ne fa uso. Le indagini continueranno, nel senso che cercherete di capire come si allarga questo raggio? Sì, i nostri sforzi si concentrano soprattutto sul consumatore ultimo, perché da questo noi possiamo arrivare, ripercorrendo al contrario la catena della vendita, che ovviamente fornisce i ragazzi e i consumatori ultimi.